se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati regà qua è savix che vi parla allora ragazzi vi ho portato oggi pomeriggio un video per fare un outfit mod ragazzi poi io mi sono messo un po' a giochiniare coi caschi e ho voluto portarvi anche questo video ok ragazzi guardate che carino invece di metterci il casco antiproiettili ragazzi ho messo quello col visore è veramente veramente carino comunque ragazzi non ci incischiamo e adesso vi faccio vedere un pochettino di caschi moddati ragazzi qualche combinazione carina che magari può piacere anche a voi io vi lascio al video regà e buona visione bella regà mi raccomando iscrivetevi lasciate un like e condividete mi raccomando iscrivetevi al canale mi raccomando iscrivetevi al canale mi raccomando iscrivetevi al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.